Una storia che viene da lontano, bellissime barche a vela e non di cui sono proprietari i cittadini italiani che invece di sventolare con orgoglio il tricolore esibiscono bandiere estere, spesso di stati lontani ed esotici. Non è una forma di internazionalismo nautico, è solo il tentativo di occultarne la proprietà al fisco. Ma nella scorsa stagione estiva gli equipaggi della sezione operativa navale della Guardia di Finanza di Taranto, durante la costante attività di presidio del litorale costiero e soprattutto dello spazio di mare prospicente l'isola di San Pietro, luogo di ritrovo di moltissime barche, hanno controllato tre imbarcazioni a vela, i cui proprietari italiani avevano deciso di emigrare solo sulla carta verso registri navali esteri, dismettendo la nostra bella bandiera nazionale, ricorrendo al fenomeno del flagging out che garantisce anche una semplificazione degli obblighi per la navigazione. Dal reparto operativo areonavale di Bari, che ha competenza sugli equipaggi della sezione operativa navale della Guardia di Finanza di Taranto, la conferma della decisa azione di prevenzione e contrasto non solo degli illeciti perpetrati, ma anche la salvaguardia degli interessi economici dello Stato, in stretto e continuo coordinamento con i reparti territoriali presenti sul territorio.